Dai, Valeghi, inizia! Ma sei sempre l'ultimo, dai, che segna Luca, dai! Sta per iniziare il derby, ma la tua maglia fortunata è prigioniera del cassetto? No, no! Tranquilli, ci penso io! Occorre, buono sound. Ecco, questo cassetto è l'usco, bisogna prendere i provvedimenti con un po' di boro d'alto. Forza, 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 ecco, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Un po' di boro d'alto, pure guide. L'altro po' qua. Adesso proviamo. Non ce lo vediamo. Piano piano, 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 ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ecco, è andata! Anche questa è fatta! Score! Oh, oh, oh! Sì! Sì! Mi sono ricompiuta? Stai capando le cipolle e piangi più di un coccodrillo? No! No! Tranquilli, ci penso io! Occorrende cipolle, una vaschetta di acqua calda, una vaschetta di acqua fredda e tanta pazienza! Procce di mango, immergere la cipolla nell'acqua calda per qualche minuto, passarla nell'acqua fredda e poi si sbuccia normalmente. Se non avete pazienza, anche sotto il rubinetto è l'acqua fredda. MISIONE COMBIUDA 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 MISIONE COMBIUDA